Si sale, si sale, si sale qua, e due, e tre, e qua si sale, andiamo ai quattro, dai, così, 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 spinta, andiamo di spinta, gambe e braccia, coordinazione, forza, potenza, elasticità, ci vuole di tutto, sette metri, che siamo quasi ai otto, due metri alla vetta, alla cima, andiamo. Andiamo, e siamo otto e mezzo, e manca l'ultima, tre, 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 nove metri.